Crescono i numeri delle persone in isolamento domiciliare dei casi positivi in provincia di Padova. Sono 95 le persone costette a rimanere a casa, il dato peggiore dopo settimane, visto che in tutta la provincia il numero di positivi era sceso a 30 e in pochi giorni invece è salito a 66. L'allarme è scattato dopo un matrimonio a cittadella, celebrato lo scorso 27 giugno. Il padre della sposa, subito dopo la giornata di festa, ha accusato febbre e i sintomi tipici del covid ed è stato ricoverato. Tampone positivo. La coppia di sposi di origine congolese ha dovuto avvisare tutti gli invitati alla cerimonia che tra le altre cose arrivavano non solo da Padova ma anche dal Trevigiano e da altre quattro regioni d'Italia, Friuli, Lombardia, Piemonte e Lazio, eppure dalla Francia. Tutti i 91 invitati al ricevimento sono stati contattati dalle varie ULS di riferimento e sottoposti a tamponi. Si tratta di cittadini italiani e di persone originarie del Congo. Un amico della sposa, residente nel Padovano, è risultato positivo al tampone. Per quanto riguarda gli ospiti trevigiani, presenti al banchetto di nozze, i tamponi fatti su 16 invitati. Tutti i congolesi sono risultati negativi. Oltre al caso del matrimonio, questi sono i comuni che registrano contagi nel Padovano. Borgo Veneto, Cadoneghe, Candiana, Casalserugo, Codevigo, Noventa Padovana, Rubano, Selvazzano e Tribano. Dal comune capoluogo Padova l'appello del sindaco Giordani che nella giornata di giovedì ha incontrato i direttori generali dell'azienda ospedaliere dell'USL 6. Ora siamo in una fase delicata in cui sono possibili focolai e casi isolati che vanno tempestivamente aggrediti e circoscritti, sottolinea il primo cittadino in una nota ufficiale di Palazzo Moroni. La collaborazione di tutte le istituzioni è decisiva per consolidare i risultati raggiunti in termini di contenimento del virus. La situazione è sotto controllo ma senza la responsabilità di tutti rischiamo passi indietro che non ci possiamo permettere chiude Giordani.